Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Carpe Diem, gioco della Lea, che ci è stato fornito dalla Ravensburger e che ringraziamo veramente di cuore per averci offerto appunto questa copia per la recensione. Si parla di un gioco storico, ambientato ai tempi dell'antica Roma, in cui andremo a vestire i panni di patrizi che dovranno spendere per ampliare i territori di Roma e rendere la città sempre più splendente e sempre più bella. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Carpe Diem, gioco della Lea, come riporta la scatola? Da 2 a 4 giocatori, quindi non c'è una componente in solitaria, da i 10 anni in su perché poi è un gioco velocissimo e durata media che va dai 40 ai 75-80 minuti. È un gioco di raccolta risorse e soprattutto di costruzione della nostra zona perché come vi ho detto inizialmente, prima della sigla, noi saremo chiamati a vestire i panni di patrizi romani, quindi parte del popolo alto locata, con in mano del denaro e la possibilità nel nostro quartiere di costruire un po' quello che vogliamo. Quindi potremo andare a costruire parchi, potremo costruire fontane, potremo costruire ville, potremo costruire mercati, potremo costruire anche delle specie di parchi giochi dell'epoca facendo un po' il bello e il cattivo tempo. Quindi dovremo andare a costruire la nostra zona di Roma, il nostro quartiere di Roma particolare e soprattutto personalizzato in un gioco competitivo, competizione sana, veloce, comunque molto anche alla fin fine divertente perché ti mette anche in moto quel lato, secondo me, logistico che in un gioco del genere non dovrebbe assolutamente mai mancare, però saremo in diretta competizione con gli altri giocatori perché alla fine sarà una gara al punteggio e chi avrà guadagnato più punti, nelle maniere che dovevo spiegare, si sarà aggiudicato alla partita ed avrà vinto. Quindi vince chi fondamentalmente ha fatto più punti ed ha costruito alla fin fine il quartiere migliore, non il più bello, però quello più funzionale. Mettiamola così che gli ha consentito di guadagnare più punti. Vi spiego brevemente ovviamente per darvi un'idea di come funziona, ma prima di tutto unboxing, confezione del gioco, bella grande, spaziosa, come vedete, titolo della Lea, fornitoci da Ravensburger, carpe diem, colorazione bianca classica, insomma un pochino che richiama appunto il marmo, e l'epoca che andiamo a trattare. Apriamo. Regolamento di gioco, di solito lo fanno sempre nei prodotti Ravensburger, direttamente in varie lingue. Quindi ci sono tutti quanti i regolamenti in tutte le lingue, non vi preoccupate, quando l'ho aperto mi sono messo pure e ho detto quanta roba c'è da legge, ora ci divento vecchio, invece no, sono semplicemente i regolamenti del gioco tradotti in tante lingue. Poi bustine, conservative, per conservare un po' di roba, anche perché tutto quanto il gioco non ha componentistica 3D, ha più che altro token e cose del genere, quindi ce n'ha bisogno. Schede obiettivi, che sono gli obiettivi che bisogna fare per fare un punteggio, per guadagnare più punti, non è l'unica maniera, ma comunque vi dà accesso a prendere più punti, soprattutto nella prova finale. E poi abbiamo tutti quanti i token qua su, che sono i pezzi di strutture che potete andare a costruire, tipo un mercatino, un fabbro, comunque una stalla, uno stagno e poi ci sono tutte le altre strutture, tipo case rosse, case gialle, come vedete, patio, ville già più grandi e tutto il resto delle strutture che potete andare a costruire nel vostro quartiere. Le risorse, come vedete qua giù, che sono a volte frutta, sono animali, sono ad esempio pesci, come ci sono da quest'altra parte, e poi abbiamo anche i vostri gli omini, i patrizi, quindi i vostri meeple che sono quelli che dovete spostare sulla mappa per andare a comprare le varie zone da poi mettere nel vostro quartiere e altri segnapunti e cose del genere. Un bel po' di altri token, zone da costruire, pergamene, che le pergamene sono per il tracciato pergamena, che è il conteggio dei vostri punti, come vedete abbiamo un bel po' di roba da defustellare e questa qui è la zona vostra personale dove potete andare a costruire. Quindi, quando andate a costruire qualcosa, intanto qua giù vedete che è un riepilogativo, e vedete ci sono delle pergamene che quando andate a costruire in una di queste zone con le pergamene andate avanti appunto, guadagnate una pergamene e andate avanti nel tracciato. Questa è la zona di partenza e di costruzione, quindi la prima struttura che andate a costruire dovrà sempre essere messa qua giù e poi le dovete mettere adiacenti partendo da qui o comunque partendo anche da altri pezzi che avete messo, solo ortogonalmente, ma in diagonale. Ad esempio, se io metto la prima struttura qui, la seconda qui e la terza qui, ho preso una pergamena. Questo è lo spazio massimo che potete utilizzare. E poi abbiamo la plancia vera e propria di gioco dove sopra verranno disposte tutte quante le carte e soprattutto abbiamo il conteggio delle pergamene che, come vi dicevo, sono anche queste parti del punteggio per vincere la partita. Lo svolgimento del gioco è semplicissimo. Inizialmente abbiamo delle carte che vanno divise. Queste carte qui ci serviranno ovviamente per fare una tirata al punteggio successiva e sono anche gli obiettivi perché inizialmente nel setup di base c'è una pescata di questi obiettivi che poi, a seconda del numero di giocatori, vengono disposti sul campo e quelli sono gli obiettivi che bisogna fare. Obiettivi che possano avere un costo o anche semplicemente dei requisiti. Requisito, che ne so, devi avere due di pesce e uno di pane. Se sei riuscito a farlo con quelle risorse hai preso quell'obiettivo. Oppure obiettivi a un costo che proprio li devi spendere, non soltanto devi averle quelle risorse per guadagnare quell'obiettivo, obiettivo che ti dà un punteggio alla fine. La regola del gioco è semplicissima. Noi abbiamo tutti quanti i quartieri e in ogni quartiere ci sono di solito quattro comunque ci sono tot edifici o zone da comprare che possono essere come vi ho detto prati, negozi, ville, mercati e cose del genere e noi dobbiamo andare, forge anche, e noi dobbiamo spostarci ogni turno bisogna fare un movimento in senso orario o in senso anti-orario per andare in una zona a comprare quello che c'è sotto. Per forza, quindi in tutti i turni non si può rimanere fermo. Ti devi spostare e devi comunque prendere un edificio a gratis anche se non ti dovesse interessare ma non lo vuoi prendere però lo puoi anche, devi per forza, o comprarlo o scartarlo così da levarlo all'avversario. Quindi nel caso se tu invece di comprare qualcosa per te la volessi togliere dalle mani del tuo avversario che se no va a fare un punteggio lo puoi fare tranquillamente. Poi ci sono varie regole, vari bonus che ti consentono di muoverti più di una casella e cose varie. Comunque il senso è quello che voi nella vostra mappa dovete andare a piazzare queste zone che avete comprato che potete girare come vi pare non hanno un senso, un su e giù quindi le potete mettere nella posizione che volete e che preferite ma devono sempre una all'altra partendo da quella centrale dove c'è il simbolo della pala devono sempre andare a combaciare con lo stesso elemento quindi una casa gialla deve combaciare con una casa gialla. Un pezzo che finisce con l'erba non può andare a combaciare con uno stagno un flusso d'acqua deve combaciare con un pezzo d'erba uno stagno deve combaciare sullo stesso lato da uno stagno una casa rossa con una casa rossa e così via potete fare figure complete ovvero se ad esempio prendete un pezzo di casa e lo mettete qui e dall'altra parte non ci mettete un altro pezzo di casa rossa che va a fare una villa completa ma lo lasciate così e magari andate avanti costruendo altre cose quel pezzo lo potete comunque mettere ma è una villa incompleta e i pezzi incompleti danno punti a fine partita ma non ti danno risorse perché magari semplicemente mettere un pezzo di mercato ti dà un punteggio però mettere due pezzi di mercato quindi fatto un mercato completo ti dà anche uno o due di pane che sono risorse che puoi usare a fine partita per guadagnare più punti convertendole puoi usare per muoverti di una casella in più oppure semplicemente puoi usarli come vi ho detto precedentemente per una carta obiettivo quindi se un obiettivo ti chiede la spesa di due panni te ce l'hai li spendi e hai fatto quell'obiettivo lì e prendi più punti quindi voi dovete costruire il vostro quartiere nella città di Roma perfetto ma le cose devono essere messe bene casa rossa l'ennesimo esempio e un lago confinante accanto non ci possono stare però se da una parte del lago c'è l'erbetta e da una parte della casetta c'è l'erbetta allora si possono combaciare per quanto saranno due figure incomplete ma ci possono stare basta che i pezzi dove vanno a toccare sempre devono essere adiacenti e mai in diagonali quindi devono essere sempre o sopra o sotto ortogonalmente basta che non siano appunto diagonali e vi daranno la possibilità di costruire il regolamento ragazzi è semplicissimo in poche parole a livello di regolamento avete visto poca poca roba si impara veramente facilmente non è un gioco che rivoluziona c'ha delle regole particolari tutto quanto però è bellino è divertente è veloce e quello è il classico gioco che si spiega veramente in due minuti si mette volentieri al tavolo secondo me è un gioco che trovato gli edifici giusti si pimpa anche bene in 3D perché magari invece di vedere questi quadratini alla fin fine questi tile con sopra disegnati una casa sarebbe bellino metterci realmente la casa però è un gioco veramente interessante che si riesce a fare quello che deve fare a livello logistico e ti cala nei panni di questo Patrizio con tanti soldi in mano che vuole costruire il quartiere perfetto migliore degli altri poi mano a mano che guadagnate punti che sono vi fanno avanzare nel tracciato pergamene e cose del genere alla fin fine vince chi ha fatto più punti in fine partita chi ha fatto anche semplicemente un punto in più ha vinto e qui vince soltanto una persona non c'è possibilità di andare a sabotare l'altro giocatore se non come vi dicevo quindi competizione pulita quella di andare a togliere una casella e invece di comprarti te la prendi praticamente alla scarti così non la fai prendere a lui che magari gli serviva un pezzo di lago per finire il suo laghetto e si trova con una figura incompleta gioco facilissimo io ringrazio ancora una volta Lea e Ravensburger per averci fornito questa copia per la recensione se lo volete ordinare primo link in descrizione e in sovraimpressione dal nostro negozio sponsor gioco libreria Simola al miglior prezzo sul mercato se lo trovate in lista ma è finito o proprio non c'è in lista mandate una mail al supporto a Corrado che è il proprietario del negozio dicendo che arrivate dal mio canale vi fate presente che il gioco è finito non c'è ma lo vorreste avere lui farà il possibile per trovarvelo e in tutti i casi usate sempre il codice sconto Coridan 7 per avere uno sconto e un discount pari al 7% e per spese superiore ai 79 euro spese gratuite in tutta Europa non soltanto in Italia c'è gente che ordina dalla gioco libreria Simola anche dalla Spagna in tutta Europa in 48 ore il prodotto viene spedito in 48 ore di solito non c'è sempre arrivato quindi il servizio è molto buono e andate a vedere se lo hanno o comunque richiederlo io ringrazio ancora una volta Ravesburger e Alea e il gioco ragazzi è interessantissimo fatemi sapere cosa ne pensate ciao alla prossima